Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna ci sono 10 km di coda per un incidente avvenuto al km 373 tra Chiusi Chianciano e Monte San Savino. Sempre in direzione Bologna per un altro incidente avvenuto al km 344 ci sono 6 km di coda tra Arezzo e Valdarno. E ancora in direzione Bologna code per il traffico intenso tra Firenze e Scandicci e il vivo con la variante di Valico Baccheraia. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola fino a venerdì tratto chiuso per lavori tra Rufina e l'incrocio con la statale 69 di Valdarno a Pontassieve in direzione Firenze. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!